Il 5 ottobre del 2012 scendevamo in piazza contro i tagli, contro l'austerità e oggi, un anno dopo, ci ritroviamo ancora nella stessa situazione. Facciamoci sentire. Ci ascoltate, oh no! Ci ascoltate, oh no! Ci ascoltate, oh no! Ci ascoltate, oh no! Siamo qua, oggi 4 ottobre, per questa data, indetta da Studout. Rivendichiamo la poca attenzione che viene data alle scuole. Vengono investiti fondi in risorse tecnologiche che non hanno nulla a che fare con l'incremento del sapere, quando ci sono scuole che qua a Bergo cadono a pezzi. Vogliamo chiarire il perché siamo qua, il cosa non vale nelle nostre scuole, ma soprattutto far capire che siamo una realtà esistente e attiva. Siamo stanchi di chi cerca di trattarsi come burattini e stanchi di chi non parteggia. Siamo stanchi dell'indifferenza. Adesso basta! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Un altro esempio palese è che il nostro paese spende 12 milioni e 21,1 miliardi in F-35 e Eurofighter. Con i soldi che vengono spesi per questi aerei metterebbero in sicurezza circa 100.000 edifici scolastici. È l'apparente contentino che il governo Letta ha rilasciato alle scuole, all'istruzione. Questi 400 milioni che è vero sono stati emessi, ma ricordiamo inoltre che negli ultimi anni abbiamo perso 10 miliardi sottratto all'istruzione, che sono ben più di quello che il governo Letta vuole darci o per farci stare buoni o per far passare se stessi come buoni.